Oggi vi racconteremo la storia di tre ragazzi e non vedrete mai i loro volti. Ok, così va bene? Dove vuoi che guardi? A1 prima, 3 A1. Hanno avuto un passato piuttosto avventuroso, ma si stanno impegnando molto molto seriamente per riprendere il filo delle loro vite. Molti di loro non hanno potuto sognare, molto difficile in alcune circostanze poter scegliere da che parte stare. ELIS ha insegnato loro che sognare si può sempre. A questi ragazzi insegna un mestiere, imparano soprattutto un metodo, un metodo valido per qualunque attività. Il valore aggiunto dei progetti ELIS è che dedica molto attenzione all'ascolto di questi ragazzi. Cominciamo raccontandovi la storia di Rami. Ovviamente i nomi sono di fantasia. Rami è un ragazzo estremamente determinato, ha un progetto molto chiaro in testa. Lui vuole diventare un campione di pugilato. Durante il suo percorso in ELIS ha imparato una cosa importante, che si può essere campioni del mondo non solo nello sport, ma anche nella vita. Per quanto penso di averne studiato anche il profilo, è difficile poter dire di ognuno di noi quale sarà l'effettivo futuro. Però io penso che Rami abbia tutte le carte in regola per un bel futuro. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma non vai da nessuna parte, se non c'è la testa. In quegli anni, dai 13 ai 15 anni, è molto difficile per tutti i casini che ho fatto. Quello che è successo a me è stata soprattutto colpa delle persone che ho avuto accanto in quel momento. Perché mi sono lasciato trascinare. Tutto il terzo liceo non avevo fatto niente perché non ce la facevo più a stare in quella scuola. Non era proprio per me. L'assistente sociale mi ha trovato questo corso di termoidraulica all'ELIS. E alla fine mi ha stupito in positivo. Qua all'ELIS sono andato d'accordo con tutti. Quelle le lezioni mi piacevano. Lavoro in un'azienda, in un palazzo enorme. Faccio manutenzione in questo palazzo. E' la cosa più brutta che una persona può fare. Sprecare un talento. La box per Rami è praticamente tutto quello in cui crede. Se la prende molto seriamente. E' una persona molto matura, introversa. E tutta quella serie di valori che la box ti trasmette. Sembra che li abbia assunti tutti. Sono entrato per la prima volta in una palestra di pugilato. Ho detto, mo faccio pugilato e il primo che mi dice qualcosa gli è meno. Capito? Poi alla fine è diventato tutt'altro. Nel primo match stavo morendo dall'ansia prima di salire sul ring. Appena sono salito è scomparso tutto. Vedo i miei amici, difarmi. Non sentivo niente, ero troppo concentrato. Per me il ring è quasi casa. Stare là dentro per me è tutta un'altra cosa. Juan è un ragazzo molto molto sensibile. Apprezza l'arte in tutte le sue espressioni. Una che lo coinvolge particolarmente è la danza. Quando danza è come se vivesse in una sua dimensione che lo protegge dal brutto. Juan Inelis ha preso tutti gli strumenti per ritrovare un'armonia che è la stessa armonia che lui conosce quando danza. Se tu perdi una decisione, sbagliato giusto che sia, ha delle conseguenze. Quindi ho preso una decisione, di conseguenza ho dovuto pagare ciò che ho fatto. Inizialmente non fu proprio bello. Entrai in una fase di negazione. Non volevo accettare ciò che mi stava succedendo. Pensavo che fosse una cosa ingiusta e sbagliata. Elis è stata una bella esperienza, mi ha fatto ricredere in tante cose. Ho fatto un corso, meccanica. È stato come rimettersi in gioco a scuola di nuovo. Per me il lavoro è qualcosa di fondamentale. Perché il lavoro ti forma come persona. Capisci la gente. Impari, comincia a crescere. È un ragazzo molto sensibile, sicuramente. E anche molto empatico. E mi ha proprio ricordato l'importanza di far fruttare le esperienze anche quando magari non sono quelle che vorremmo. Ci sono persone che ti vogliono bene nel mondo. Basta osservare bene. E dare il giusto valore ai piccoli gesti. Alle piccole cose. Beh, non c'è tanto da spiegare. Una cosa che sta dentro il te. Appena senti la musica il sangue comincia a bollire e ti partono i vasetti. Non c'è una spiegazione a questa cosa. È qualcosa di naturale. È come se mi staccassi un attimino dal mondo reale. Entrassi nel mio mondo. È un mondo in cui tutto è bello, è tutto felice. Dove non c'è tristezza. È come se ti sentissi rinascere di nuovo. È come se rimparassi ad apprezzare la vita di nuovo. Nella danza, quando balli, ci sono i tempi, no? Magari ci sarà un tempo che va più veloce o più letto. La vita è la stessa cosa. Ci sono momenti in cui andiamo forti, momenti in cui andiamo pianissimi. Momenti in cui siamo felicissimi, momenti in cui siamo tristi. Bisogna imparare ad apprezzare ogni sfumatura. Bella e brutta. Luigi è a un bivio. Tra quello che è l'effimero e quello che è il senso di responsabilità che lui sta maturando nei confronti della sua famiglia. Lui ha perfettamente compreso qual è il bene, qual è il male. Il suo percorso in Ellis gli è stato prezioso proprio per questo. Il giorno in cui capirà la sua intelligenza sarà una vera risorsa per se stesso e per l'intera comunità. Io non c'è stato bene a casa. Capito come? Io mi riferivo a San Giro. Pure perché ero più piccolo, di nuovo campavo più alla giornata. Io mi sono trovato da solo troppo presto, quindi la cosa più facile era quello. Luigi una volta ci ha raccontato un sogno. Aveva indosso una felpa col cappuccio. È un modo per non essere visti, ma nello stesso tempo per non vedere. Mi pensavo che a fare questo passo sarei cresciuto. Non conoscevo altre vie di fuga, però ho sbagliato. Ho fatto una grande cavolata. Perché io ci penso ogni tanto, è troppo tardi. Adesso sono entrato dentro un mondo diverso, tramite Ellis, tramite il lavoro. Mi hanno detto, se vuoi c'è questa opportunità di lavoro, io ho visto come una tappa per me. perché da quando ho capito Ellis mi sono cominciato a dare delle tappe. A un certo punto, all'improvviso, ha cominciato a correre, senza mai guardarsi intorno. Lui aveva un obiettivo urgente. Lui aveva un obiettivo importante. Io penso che d'errori abbiamo fatti tutti navide, nessuno è il santo. Ho una famiglia, ho due figli, una moglie, che non vorrei mai dargli un futuro sbagliato. A un certo punto si ferma e raccoglie un orsacchiotto di peluche. È l'orsacchiotto di sua figlia. per restituire quello che è un compagno di giochi. Forse un compagno di giochi che ahimè lui purtroppo non ha mai avuto. Prende il cellulare in mano, stai tranquillo, l'orsacchiotto è qui con me. E stasera torna a casa con papà. Il sogno mio sarebbe sta bene. Cioè, che ti svegliamo la mattina stai bene, che io fai tua, papà mia tua. E la cosa va bene, più bella sono loro. Basta che guardo, so che lì c'è io. Quello io ogni ora mi fa mancare i miei figli. È una madre del padre. Io penso che sia importante raccontare queste storie perché la nostra società tende spesso a nascondere i problemi che a volte è la stessa società a creare. Quindi sarà opportuno che impariamo tutti a farci carico dei problemi e a condividerli. a farci carico dei problemi